Bentornati sul canale di non aprite questo vlog, io sono il Gons e oggi sono qui a raccontarvi quali film horror usciranno nel 2019 Allora, cominciamo subito perché sono tantissimi Partiamo dai film di cui c'è una data certa per arrivare poi sul finale con film che sappiamo usciranno nel 2019 ma non sappiamo esattamente quando Il primo di tutti è Suspiria, ragazzi, ne abbiamo parlato in tutte le salse E' uscito il primo gennaio, abbiamo fatto una video recensione, abbiamo fatto una recensione scritta, abbiamo fatto una reaction, abbiamo fatto qualsiasi cosa su questo film perché merita veramente tanto, andatelo a vedere Il secondo film che uscirà il 18 gennaio non è propriamente un horror ma è il sequel di un film che rientra abbondantemente in questo genere che è Split Sia Unbreakable che Split che Glass sono tre film che fanno parte di una trilogia ideata, creata da Shyamalan Shyamalan è il regista del Sesto Senso per intenderci, non è propriamente un horror, è un thriller Però essendo comunque un sequel di Split abbiamo deciso comunque di tenerlo d'occhio, di farlo rientrare nella nostra lista Il 31 gennaio esce l'esorcismo di Anna Grace, il nome del regista è veramente un rompicapo da leggere Di Ederick Van Royen, insomma il tema è sempre quello degli esorcismi La storia parla di Megan, Reed, Megan, Reagan, non so se vi notate qualche assonanza con l'esorcista Parla di questa donna che va a lavorare in un obitorio, è già comunque così, è una roba che fa abbastanza paucura Comunque non è il primo film che tratta questo argomento, però in questo obitorio arriva un cadavere che pare sia morto durante un esorcismo Arriva questo cadavere che probabilmente è posseduto e ci saranno tutta una serie di situazioni abbastanza spaventose Non fatevi ingannare dal trailer che vi dice dopo Man in the Dark Cioè il trailer ci ha virgolettato dopo Man in the Dark Come per dire dopo Man in the Dark ecco l'esorcismo di Anna Grace Ma in realtà non c'è nessuna correlazione tra i due film, non c'è lo stesso regista, non c'è niente L'unica correlazione tra i due film è che il film Man in the Dark e l'esorcismo di Anna Grace Sono entrambi prodotti della Scream Gems, che è una casa di produzione E tutto è fatto per mettere un po' di fumo negli occhi Se ti è piaciuto Man in the Dark allora potresti pensare che ti piacerà anche quello Sempre il 31 gennaio esce Ellie, che è un film di Charan Foy Io qua farò delle figure di merda incredibili con i nomi dei registi Comunque, il regista che ha diretto Sinister 2 Scordatevi di vedere questo film al cinema perché Netflix ha già comprato i diritti La Paramount Picture non è la prima volta che vende un suo prodotto a Netflix Per esempio di recenti ci sono Annientamento, The Cloverfield Paradox e Extinction Madonna che nomi Ellie comunque è un film che parla di un ragazzo che ha una malattia debilitante Che lo costringe a stare chiuso in casa, isolato dal mondo I genitori a un certo punto si affideranno a un dottore che ha intenzione di usare delle cure sperimentali Da quel momento in poi inizieranno a accadere cose strane e inquietanti L'1 febbraio esce Velvet Buds Soul E anche qua torniamo a parlare di Netflix perché questo film diretto da Danger Roy Con J.K. Gineyal, l'attore di Donnie Darko E Toni Collette, bravissima attrice di cui abbiamo parlato tantissimo Grazie a Ereditari, che è un film stupendo che è uscito quest'anno Che ha fatto discutere molto perché è un film difficile e non adatto a tutti i palati Allora, il film presentato in anteprima al Sundance Film Festival Sarà su Netflix il primo febbraio La storia sembra abbastanza interessante Anche se un po' già vista Giusefina è un'artista che improvvisamente sfonda nel mondo dell'arte Ma perché sfonda? Perché praticamente si trova con l'opportunità di poter derubare delle sue opere Un artista che viene ritrovato morto nel suo appartamento Quindi lei riesce a impossessarsi di questi quadri che nessuno sa appartenere a questo artista morto Essendo molto belli, lei decide di provare a spacciarli per suoi Chiunque entrerà in possesso di questi quadri Quindi la pittrice, i galleristi, gli acquirenti Insomma, verranno colpiti da qualcosa di molto oscuro E pagheranno molto caro il prezzo dei quadri Il 14 febbraio esce Crucifixion 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 Di Javier Jens Regista di Frontier, Ai confini dell'inferno Di The Vine e anche di un episodio di The ABC of the Dead Quel film, antologia che è uscita per la Midnight Factory Molto carina Dove dentro c'è veramente una quantità incredibile di cortometraggi E il cortometraggio diretto da lui è X is for XXL Questa pellicola invece, Crucifixion Tratta dei fatti realmente accaduti in un paese della Romania A Vaslui nel 2005 Fatti reali, fatti realmente accaduti Praticamente un prete è stato arrestato Per l'omicidio di una suora Durante un rito di esorcismo Quindi questi l'hanno esorcizzata e l'hanno ammazzata Di lì a breve poi giungerà una giornalista Per indagare su questo fatto E scoprire, diciamo L'intento è scoprire se esiste veramente questo esorcismo Se questa persona è stata veramente posseduta Oppure è semplicemente stata fatta fuori una povera malata di mente Insomma, la sola è la tua storia Però almeno questa è tratta da un fatto realmente accaduto Sempre il 14 febbraio esce Escape Room Ma attenzione Quest'anno gli Escape Room che escono sono due Uno è di Will Wernick Ed è del 2017 Semplicemente ci ha messo un po' a arrivare Arriverà quest'anno finalmente E' a detta del regista il primo film in assoluto dedicato alle Escape Room Che sono questa nuova forma di gioco di ruolo dal vivo In cui vieni messo dentro una stanza Hai degli indizi Devi trovare il modo di uscire dalla stanza O risolvere degli aniqui Eccetera eccetera Ovviamente nel film Un gruppo di ragazzi deciderà di partecipare a queste Escape Room E alla fine dei conti si troverà A non essere più in un gioco Ma in qualcosa di reale Mi sembra abbastanza scontata come trama E speriamo veramente che ci sia almeno un epilogo un po' originale Uscirà La moglie di Frankenstein Film diretto da Bill Condon Con Javier Barden nel ruolo di Frankenstein Non so perché ma Questa associazione Javier Barden E Frankenstein Boh Mi sa proprio di Di trashata Speriamo bene Co protagonista Con Javier Barden Troviamo Gal Gadot La super gnocca Wonder Woman Attrice veramente bellissima Che sta facendo la sua scesa nel cinema Di intrattenimento Bill Condon ha dichiarato Che la pellicola di James Whale James Whale Per intenderci è il regista Che non so quanti mila anni fa Fece la prima trasposizione in assoluto Del libro di Mary Shelley Frankenstein In versione cinematografica Quindi è il primo in assoluto Che ha fatto quello E ha fatto anche La moglie di Frankenstein Ha fatto anche L'uomo invisibile E mi sembra anche la mummia Insomma Ha fatto la storia del cinema horror Stiamo parlando di quelli vecchi In bianco e nero Nel film originale La moglie di Frankenstein Compariva Praticamente Per cinque minuti E poi veniva distrutta Nel film Di Bill Conno Che Che lui considera un sequel Ovviamente Ci sarà molto più spazio Per questa figura qua Io spero che Che sia qualcosa di decente Che non sia qualcosa Di molto simile Rifacimento alla mummia Quello recente Perché veramente Che film è Il 22 febbraio Esce The Turning È l'adattamento cinematografico Del racconto Il giro di vite Di Harry James Del 1898 Il protagonista del film Sarà Una faccia ormai nota Che è Finn Wolfhard Che è uno dei ragazzini Di Stranger Things Mentre la regia È stata affidata A Floria Sigimondi Una regista Di tantissimi videoclip Soprattutto Per grandi artisti Della musica americana Che ha diretto anche Per esempio L'episodio numero uno Di American Gods Ha diretto anche Degli episodi Di Daredevil Quindi Dopo le serie tv Si presenta Sul grande schermo Con questo lungometraggio Il film È comunque da tenere d'occhio Probabilmente anche lei Perché dietro Comunque abbiamo Steven Spielberg Cioè il produttore esecutivo È Steven Spielberg E lui si sa Che dove ci mette il naso Le cose funzionano Il 28 febbraio Esce ancora Auguri per la tua morte Farò una recensione Di Auguri per la tua morte Perché l'ho visto di recente E voglio parlarvene Uscirà questo film E sono un po' Dibattuto Perché La simpatica Jessica Roth Che è intrappolata In questo loop temporale In cui È costretta a rivivere Lo stesso giorno E alla fine di questo giorno Viene tutte le volte Uccisa Insomma la trama Sembrava esaurirsi Con il primo film Mentre invece Qua è stato deciso Di fare un altro film E la trama si ripete E questa è una cosa Da un certo punto di vista Una rottura di palle Dall'altra È anche abbastanza ironico Perché è un film Che parla della ripetizione E la trama si ripete Cioè nel senso Che la trama è uguale Al primo film Quindi è un po' È un po' strano Solo che Noi il biglietto Lo ripagiamo Quindi insomma Speriamo che questo film Mi regali qualche spiegazione Che nel primo film non c'è Il regista Christopher Landon Ha pure dichiarato Di essere pronto Per scrivere Buttare giù Il terzo film Che cosa mi viene da dire Non vi spoilero niente Se riguarda la recensione Perché voglio che ve la guardi Però se un regista Fa un film Che va bene E se l'è scritto E se l'è girato da solo Diventa un franchise E quindi questo Finché ce la mangia Magna E finché riesce a scriverci Dei sequel Ce li scrive Andiamo al 14 marzo Eccoci qui al secondo Escape Room Il secondo Questa volta il film Non è vecchio Del 2017 È stato appena concluso La regia è stata affidata Ad Adam Robitel Regista di The Tolkien of Deborah Logan E Insidio sull'ultima chiave Quello che è uscito da poco La trama In teoria È uguale all'altra La differenza è che In questa Escape Room I giocatori Non si conoscono fra loro Vengono invitati Dai creatori Delle Escape Room E c'è in palio Un milione di dollari Ovviamente anche qui Tutto sembra un gioco E invece in realtà non è E la vita ovviamente Delle povere vittime È in pericolo Dovranno riuscire a salvarsi A quel punto Del milione di dollari Penso che non gliene freghi a nessuno Quando sei costretto A salvarti le chiappe Anche qui Mi auspico Che ci sia Un finale divertente Che possa Insomma Dare una sferzata Tutta questa trama Un po' banale Il 21 marzo Esce The Prodigy Il figlio del male Alla regia troviamo Nicholas McCarthy Che ha diretto anche The Pack Oltre il male E un episodio Dell'antologia Holy Days Anche questa Pubblicata da Midnight Factory L'episodio che ha diretto lui È Easter Questa volta dirige The Prodigy Ovviamente come succede Spesso Chi segue da sempre Loro lo sa Bisogna sempre Sempre mettere La parola male Quindi Il figlio del male Il potere del male L'albero del male Insomma Il male è ovunque Perché la parola male È qualcosa che Molto suggestiva È inserita In questi titoli Per fare un po' Di marketing Insomma Portare un po' Di creduloni Impressionabili Insomma Creduloni del paranormale Al cinema Anche qui la trama Sembra un po' Sempre la solita storia Praticamente Una madre In ansia per il figlio Che sta iniziando a avere Dei comportamenti anomali Insomma Pensa che dietro ci sia Qualcosa di sopranaturale Una possessione Qualcosa Il trailer è molto Devo dire la verità Il trailer Mi ha colpito molto È girato molto bene C'è questa scena Con Con uno psichiatra Che parla Al bambino E lui Cerca di ipnotizzarlo È tutto montato Molto bene Poi alla fine C'è un jumpscare Che fa cagare sotto Veramente tanto E devo dire Che però Mi è piaciuto Spero che appunto Dietro la solita cosa Della mamma Ma il bambino Che abbiamo visto In 10.000 salse diverse Ci sia Un po' di sostanza Il 21 marzo Esce Noi Us Che dire ragazzi Jordan Peele Ha già dimostrato Con Get Out Vincendo pure l'Oscar Di essere un regista Talentuosissimo Perché quello Era il suo primo film Già guardando il trailer Di Noi Di Us Che c'è già in italiano Andatelo a vedere Sul canale C'è anche la mia reaction Al trailer Già vedendo il trailer Si capisce che C'è stata una crescita Cioè Questo film è ancora più Non lo so Si vede che c'è più roba Questo film parla Del doppelganger Praticamente Il tema Dell'alter ego Del sosia Del gemello maligno Una famiglione in vacanza Una sera Troverà Praticamente Sulla soglia di casa Sul vialetto di casa I propri sosia Malvagi Ad attenderli Con delle intenzioni Non buone Devo dire che Mi ha scioccato Il trailer Cioè già così Mi ha veramente Incuriosito tantissimo Mi ha Fa cagare sotto Ragazzi Per me Questo è uno dei film Da attendere Con più Hype di tutti Quindi via 4 aprile Esce Unfriended Dark Web Sequel di Unfriended 2014 Questo nuovo Capitolo Alla fine Se fanno un secondo capitolo Vuol dire che Sto Unfriended Il tema Non dispiaceva Qua ci hanno messo dentro Pure il Dark Web Che è una cosa Che affascina molto Soprattutto perché Tanti non sanno Che cosa sia Quindi ci fanno Tante fantasie dietro Si possono raccontare Un sacco di cose E nessuno può Né confermarle Né smentirle Quindi è veramente Un bacino Di suggestioni Piuttosto incredibile Alla regia Troviamo L'esordiente Stephen Susco E niente La storia parla Di questo Mattia O'Brien Che è un ragazzo Dalla mano un po' lesta Che Si impossessa Impropriamente Di un laptop Insomma Condivide questa Questa azione Con i suoi amici E all'interno Di questo laptop Trovano dei file Con delle immagini Abbastanza inquietanti Che si scoprirà Che arrivano Dal dark web Col passare del tempo Scopriranno anche Che il proprietario Del laptop Cioè del computer Ha intenzione Di riprendersi il computer Ma non solo A quel punto Ha anche intenzione Di giocare con loro E il tizio Non sembra certo Uno raccomandabile Quindi la solita Dinamica del primo film Speriamo Con un po' di Ciccia in più Stavolta Perché non è che fosse Un granché Il primo Unfriended Poi 18 aprile La Lurona Le lacrime del male E qua torna di nuovo Il male Siamo di fronte All'ennesimo film Prodotto da James Wan Quindi Aspettatevi Un trailer Che dirà Dal produttore Di The Conjuring Come se fosse Garanzia di qualità Non lo so Fate voi The Conjuring È un film Girato bene Gradevole Divertente A me non è dispiaciuto Poi quello che C'è girato Tutto intorno Al mondo The Conjuring Mi sembra Una gran ciofecca Quindi Stiamo all'occhio Ma non solo L'altra chicca A dirigere il film È Michael Chavez Un giovane regista Che È stato già Scelto Per dirigere The Conjuring 3 Quindi Non aspettatevi Che James Wan Io Lo dicevo anche Insomma Pur parli A James Wan Non gliene frega niente Della vostra Passione Attitudine Devozione Per The Conjuring Lui ha fatto Uno o due film E basta Ora non gliene frega più niente Di fare quella roba lì Infatti The Conjuring 3 Lo dirige Michael Chavez Quindi insomma Michael Chavez Ha quest'onere E onore Di girare Insomma Il terzo capitolo Di The Conjuring 3 E soprattutto Confrontarsi con i fan Devoti di James Wan Quindi O verrà massacrato O verrà massacrato The Conjuring 3 Così Tanto per farvelo sapere Arriverà nelle sale L'11 settembre 2020 La Lorona Della Crevina del Male Si basa Su una leggenda Facente parte Del folklore Latinoamericano Insomma Lorona è l'anima Di una donna Che ha ucciso il figlio E che vaga Alla ricerca Del figlio Ucciso Nonostante lei L'abbia ucciso Insomma A rincoglionire Uno spettro Che terrorizza Chiunque lo incroci Vedremo 9 maggio Arriva Uno dei remake Più attesi Non so se attesi Per Per affetto O attesi Per massacrarlo Pet Sematary Arriva un altro remake Importante Cimitero Vivente Un cult assoluto Il primo Film Fu diretto Da Mary Lambert Tratto da Ecco una cosa Che sicuramente Lo rende Un film Con tutti i riflettori Addosso È il fatto che Che sia Insieme a It Un altro Film importante Che è tratto Da un romanzo Di Stephen King Quando c'è di mezzo Stephen King Tutti i riflettori Si accendono Tutti gli occhi Sono puntati Su questi film qua Quindi Pet Sematary Vedremo se ci deluderà La regia È di Kevin Colch E Dennis Widmeyer Insomma Dopo il rifacimento Di It Un altro cult Viene rifatto E vediamo Se riuscirà a regalarci Delle gioie Come è successo Con Suspiria Che è un remake Di un cult Fatto bene Oppure se sarà Da cestinare Entriamo un po' In una fase In cui vi segnalo Dei film Non si ha la data certa Non si ha la data italiana Ma ipoteticamente Potrebbero uscire In concomitanza O subito dopo Il 21 giugno Esce negli Stati Uniti Child's Play Che è il Rifaccimento Della bambola assassina Rifaccimento E si intende Reboot Quindi Vabbè Don Mancini Si è opposto In tutti i modi Ma sai Come ti puoi opporre Al business Quando c'è da far soldi Non li fermi In questo reboot La storia cambia Non è più una bambola Che viene posseduta Dallo spirito Di un serial killer Ma è un difetto Di fabbrica Che rende questa bambola Un po' pazza E fa delle cose malvagie Mi sembra Una trama Un po' Deboluccia Però magari Poi è spiegato meglio Perché detta così Sembra proprio una roba Ma che cazzo vuol dire Che vabbè Vedremo Se aveva ragione Don Mancini E questo reboot Non andava fatto 28 giugno Sempre negli Stati Uniti Esce il seguito Di 47 metri Che Qua è stato rinominato The next capture Insomma anche qua È la solita La solita Soluzione Fai Un film che va bene L'hai scritto Quindi fai Per forza Devi fare un sequel Per fare un po' Di dindi E quindi La storia è più o meno La stessa Insomma Cinque uomini Si immergono Per andare A esplorare Una città sommersa E verranno presto Circondati Da temibili Squali Insomma Il regista Johannes Roberts Tenta di fare Il jackpot Pure stavolta Luglio Potrebbe uscire a luglio Ma non si sa Non si sa neanche il titolo Non si sa niente Annabelle 3 Insomma È un po' Che si dice Che uscirà Nel 2019 Sequel Di Annabelle 2 Spin off Della saga Appunto Di cui abbiamo parlato Prima De Conjuring La pellicola È scritta Da James Wan E Gary Doberman È diretta Da Gary Doberman Questo Gary Doberman Tenetelo d'occhio Perché Quest'anno Tra film che ha scritto E film che ha diretto Praticamente Ha fatto tutto lui Secondo me È il neopupillo Di James Wan Perché In questi meccanismi Quando poi Sali sul carro giusto Hai la strada spianata È il suo primo film Come regista Però è stato Sceneggiatore di Annabelle Annabelle Creation Di It Quello di Muschietti E anche lo sceneggiatore Di The Nun Quindi insomma È dentro al giro Dei film De paura Ma non è l'unico film Che farà da regista Se non sbaglio Ci arriveremo dopo Bene Il terzo pippone Della bambola maledetta Ce lo dovremo succare Forse nel 2019 2 agosto In USA Negli States Ma secondo me Uscirà anche qua In quella data Perché è un cinecomic Siamo di fronte A uno dei due cinecomic Barra horror Dell'anno Questa è una tendenza Molto interessante Che potrebbe rivelarsi Una trashata Come una cosa Insomma Che va a arricchire L'ambito dell'horror Nel senso che Stanno iniziando a nascere Dei film cinecomic Quindi che parlano Di supereroi Che però Preferiscono e scelgono Ambientazioni Horror Dark Coupe Creepy Quindi È come se si stesse Creando un nuovo Sottogenere Quindi Che ne so Invece che zombie movie Ci sono questi Cinecomic Horror Tra cui New Mutants Che esce il 2 agosto Che viene definito Come un horror Ragazzi Un action Horror Che fai Un fumetto Di supereroi Però di supereroi Un po' Insomma Con atmosfere horror Il film racconta Le vicende Dei nuovi mutanti I personaggi Comparsi in un fumetto Della marvel Risalente Al 1982 Divenuto poi Un albo Mensile Che il 5 settembre Esce It capitolo 2 Esattamente Con il film per la tv Degli anni 80 Anche il film di Andresa Muschetti È diviso in due parti Io sono curioso Di vedere L'epilogo Soprattutto se riesce A essere Un pochino Più horror Perché Il primo film Ha delle cose Interessanti A me è comunque Piaciuto molto Il Pennywise Non vi dico il nome Dell'attore Perché è impossibile Mi è piaciuto Perché comunque Si è ritagliato Un suo spazio Iconico Nell'immaginario Della gente Quindi È girato bene Tantissime Tantissime cose Fatte molto bene È un po' Troppo fan service Forse Con tutto questo Anni 80 Manetta Così però Anni 80 70 Però Ecco È un po' Horror Non fa tanta paura Mentre invece La serie tv Anche quella Con tutti i suoi difetti Era un pochino più C'erano delle cose Abbastanza inquietantelle Quindi Speriamo che Il capitolo finale Di It Sia Un'apoteosi Di cose Terrificanti Un po' Più spaventoso Il 4 ottobre Esce La casa di Jack L'attesissimo Film di Lassbontrier L'uscita è data Il 4 ottobre In Repubblica cieca Io non ho trovato Altre informazioni In riguardo Ma se esce In Repubblica cieca Il 4 ottobre Credo di uscire Anche in Italia Il 4 ottobre O giù di lì È una pellicola Con il grandissimo Matt Dillon È un attore Che ha avuto Un momento di buio E poi dopo È tornato in auge E finalmente Sta facendo dei film Magari è un po' Inespressivo Però a me È un attore Che piace Perché Mi sembra Un po' pazzo E quindi Per certi ruoli Mi attrae Come personaggio Insomma La casa di Jack È un film Che al festival Di Cannes Ha fatto molto clamore Perché pare Che la gente Sia stata male Sia svenuta Per la forza Estrema La violenza Estrema Delle scene Lassbontrier È sicuramente Un regista È un pugno Nello stomaco Anche quando Non fa un horror Me lo ricordo Veramente come È disturbante Lui A me piace Perché Come dico sempre Tutti i film Che mi Che mi prendono Alla sprovvista Che non mi Insomma Io non voglio Essere coccolato Dal cinema Io voglio essere Preso a sberle Dal cinema Non dalla gente Lui ti prende a sberle Anche con dei film Drammatici Questo addirittura È un horror Thriller Spero che Veramente non arrivi Troppo censurato Con cose Perché io voglio Vedere proprio La follia Di questo regista Che pare anche Essere uno Veramente pesante Sul set Molti attori Si sono trovati male E secondo me Questa è una cosa Che può anche Essere interessante Perché Creare un clima Di disagio Ma tenere le redini Di tutto E riuscire comunque A portare a termine Il film Significa anche Magari trasmettere Delle emozioni Negative Che tu volevi Che ci fossero Nel film Perché guardate La sfondrina Non è certo Un cretino È uno che Ha veramente Rivoluzionato il cinema Non vedo l'ora Veramente Questo qua Non vedo l'ora Di vederlo Poi sul fatto Che sia svoluto A meno alla gente Non lo so Perché c'è gente Che sviene Per qualsiasi cosa Quindi va benissimo Hype Ai massimi livelli Il 31 ottobre Esce Hai paura del buio Tratto dalla famosa Serie tv Are you afraid Of the dark È un adattamento Cinematografico Diretto Indovinate un po' Da chi Gary Doberman Quello di Annabelle 3 Il film avrà Una storia originale Quindi non sarà Presa dalle Le puntate Della serie tv Ma ci saranno Ovviamente Tantissimi richiami Alla serie tv Perché se non facciamo Le cose fan service Poi dopo Ci linciano i fan Allora A ottobre Sempre in the states Esce Benvenuti al Zombieland 2 Gli sceneggiatori Del fortunatissimo Benvenuti a Zombieland Ovviamente Non si fanno scappare L'occasione E fanno il seguito Scrivono il seguito E lo girano Non si sa ancora niente Se non che La buona notizia Che Bill Murray È ancora nel cast Del seque Ma soprattutto Che il suo compagno A chiapa fantasmi De Necloid Sarà anche lui Nel cast Di Benvenuti a Zombieland 2 Questa è una bellissima notizia Per tutti Quelli come me Che amano il cinema Anni 80 Poi questo è un film leggero Una zombie comedy Quindi non è che dobbiamo Troppo stare sul serio Ci va bene anche Il fan service In questo caso Un film interessantissimo E dico interessantissimo Perché La Midnight Factory Ha scelto di distribuirlo In Italia Non si sa ancora La data di uscita È The All in the Ground Praticamente Parla di Questa madre Giovane madre Che cerca di sfuggire Dal suo passato Trasferendosi Insomma In una cittadina Più piccola Col figlio Solo che Dopo che il figlio Si è avvicinato A questa grossa buca Che c'è Vicino a casa loro Il figlio inizia A avere dei comportamenti Insoliti Ci sono delle dinamiche Molto interessanti E il trailer Mi ha incuriosito tantissimo Quindi Questo è il classico film Dove non bisogna Secondo me C'è dietro Veramente Della roba interessante Perché Se no Midnight Non l'avrebbe scelto È sicuramente Uno di quei film Che bisogna cercare Di non spoilerare Di non venire a conoscenza Di cosa c'è dietro È Senza averlo visto Quindi Sicuramente C'è qualche colpo di scena Qualcosa di strafigo È stato scritto E diretto Da Lee Corning Arriverà Negli Stati Uniti Il primo marzo Quindi Boh Non so da noi Quando Ma sicuramente Entro l'anno Sempre nel 2019 Non si sa quando Uscirà Rabid Sette di sangue Sono concluse a dicembre Le riprese di Rabid Remake Dell'iconico film Di David Cronenberg Del 1977 La pellicola È diretta Da Jen E Silvia Soska Le cosiddette Soska sister Nell'ambiente Sono conosciute così Del film Circolano solo Due o tre immagini Di cui una È stata pubblicata Sul Famosa rivista Romorg Ed è un'immagine Abbastanza forte Insomma C'è una faccia Tutta Insomma la protagonista Con la faccia Tutta Devastata Molto Molto Figa Magari ve la metto qua Poi Sempre nel 2019 Uscirà Scary stories To tell in the dark L'adattamento L'adattamento Dei racconti horror Per teenager Scritti da Alvin Schwarz E illustrati Da Stephen Gammel Sarà prodotto Dal premio Oscar Guglielmo del Toro E diretto Dal regista Novergese Mo ve lo scrivo Perché io non riesco A dirlo André Ovredal Che è stato Già regista Di Troll Hunter E Autopsy Uscirà nel 2019 Anche Pledge Questo è un thriller horror Che parla Delle atrocità Delle prove Umilianti E pericolose Che questa confraternita Costringerà a fare A un gruppo di Giovani studenti Che vogliono entrare Appunto nella confraternita Quindi È un po' Una specie di Torture porn Insomma I ragazzi Saranno costretti A fare delle cose Che potrebbero Addirittura farli morire Quindi Diretto da Daniel Robin Lo regista di Uncage Pledge Sarà distribuito Oltre il seno Dalla IFC Midnight L'11 gennaio 2019 Quindi si suppone Che arriverà Abbastanza presto Da noi Vedremo Adesso arriva un film Che dovrebbe uscire Finalmente nel 2019 Che era stata annunciata L'uscita nell'agosto 2017 Poi posticipata A data da Da definire E poi non è mai più arrivato Ma pare Che prima o poi arriverà Cioè Quest'anno Le motivazioni Dietro a questi ritardi Si possono Ricondurre Alle accuse Di molestie sessuali Che ha Insomma Nei confronti Del produttore Harvey Weystein Insomma Ne avrete sentito Parlare Di questa storia E quindi Immagino Che per questa ragione Ci sia stato un po' Di difficoltà Poi a distribuire Il film La pellicola L'adattamento Di un cortometraggio Dal regista Novo regista Lars Klevberg La storia è incentrata Su una macchina fotografica Una Polaroid Ovviamente Che una volta Scattata la foto A una persona Si scateneranno Forse Sovranaturali E maligne Insomma Una macchina fotografica Maledetta Ovviamente Le foto Non potranno Essere distrutte Se no Insomma La persona ritratta Subirà Dei danni fisici Vediamo se dentro A questo film C'è qualche cosa Ingegnosa Perché La Polaroid È sicuramente Una macchina fotografica Che ha fatto La storia iconica Che ha un grande fascino E si possono Fare dei giochi Interessanti A livello di narrazione Quindi Speriamo Che anche per via Del fatto che La foto Esce subito Ma ha un Tempo di attesa Di sviluppo Che puoi stare lì E guardare Quindi È una cosa Che io facevo Spesso da bambino Di star lì A guardare La foto Che si sviluppava Facevo anche così Con la foto Anche se non andrebbe fatto Ma tutti dicevano Che andava a fare Vedremo Se questo film Vale la pena Di essere visto Altro film Che uscirà nel 2019 È Followed Insomma Per guadagnare Più follower C'è Questa web star Che decide Di indagare In un vecchio hotel Infestato Il film È girato con la tecnica Found footage Infatti ricorda vagamente Blair Witch Project Ma ambientato Non in un bosco Vedremo come sarà Il regista È Antoine Lee Quest'anno abbiamo pure Il found footage Ce n'è di tutti i colori Altro film in uscita Crawl Una giovane donna Mentre cerca di salvare Il padre Durante un uragano In Florida Rimarrà bloccata In una casa Lagata E tutto E sarà costretta A difendersi Da dei Simpaticissimi Alligatori Ci mancavano Anche gli alligatori In effetti La pellicola È diretta Da Alexandre Aja Che non è nuovo All'horror Perché ha già diretto Le colline hanno gli occhi Piragna 3D E riflessi di paura Quindi insomma Vediamo se con questo film Riuscirà a fare Un salto di qualità Sicuramente È da tenere d'occhio Perché la pellicola È prodotta da Sam Raimi Quindi insomma Non è proprio L'ultimo dei cretini Altro film In uscita nel 2019 È The Lighthouse Questo è veramente interessante Ragazzi Come direte Ma che cazzo è The Lighthouse Sarà È il nuovo film Di Robert Hedger Regista di The Witch Film controverso Insomma Questo fantastico regista Torna a delizzarci Con un nuovo horror Nel cast Troviamo Willem Dafoe E Robert Pattinson Pattinson è L'attore di Twilight Insomma Il belloccio Di Twilight Che sta cercando Di rifarsi una carriera Un po' Da attore più serio I due attori Hanno fatto sapere Che durante la revoluzione C'era un clima Veramente terrificante Di tensione Pattinson Ha addirittura Dichiarato Che a un certo punto È andato vicinissimo A tirare un pugno Al regista Mentre Willem Dafoe Ha aggiunto Che quando Pattinson E Dafoe Sono trovati Per girare le scene Insieme Le scene Erano così dure Così Faticose Snervanti Che non si sono Quasi rivolti La parola Al di fuori Del set Cioè Dopo le riprese Non si sono Mai Insomma Non hanno neanche avuto Modo di Staurare un rapporto Talmente erano Stremati E snervati Dal film Insomma Le premesse Direi che sono buone Come dicevo Anche prima Secondo me Ci sono dei registi Che fanno anche apposta A torturare Gli attori In questo modo Per tirare Fuori Il top Del Possibile Dagli attori È ambientato Nella nuova Scozia Del 1890 E L'altra particolarità Interessante È che è girato Con pellicola In bianco e nero A 35 mm Insomma Una roba Ultra romantica Altro film In uscita Victim of Love Jasper Isaacson È un talentoso Regista danese È al suo primo Lungometraggio E il suo film Parla di Carly Una ragazza Che ha perso Le tracce Della sua amica Americana Amy Le circostanze Sono misteriose Allora vista L'incapacità Della polizia Nel Arrivare A una soluzione Decide di Indagare da sola Bell'idea del cazzo Altro film Che dovrebbe uscire Nel 2019 Ma non è detto Altro film In uscita Nel 2019 È The Lodge Il duo di registi Severin Qua devo leggere ragazzi Severin Fiala E Veronica Franz Austriaci credo Ci regalano Un altro inquietante film Dopo Good Mommy Qualcuno se lo ricorda? Insomma questo qua È un film Che racconta Insomma Le sventure Di una famiglia Presa di mira Da alcuni spiriti maligni Curiosa la partecipazione Di una rispolverata Alicia Sylveston Non so se ve la ricordate Quando era giovane Gnocca Nel video Degli Aerosmith Questo è veramente interessante L'angelo del male Anche questo fa parte Di quello che io definisco Il cinecomic horror Non so se poi c'è un modo migliore Per chiamare questo sottogenere È un ibrido Tra un film di supereroi E un film horror Guardando il trailer Vi accorgerete Che la citazione Ha Diciamo La storia di Superman Quindi Superman Che arriva Con un'astronave Che precipita Nei campi Di questa famiglia Di agricoltori Che non hanno figli E quindi adottano Clark Kent E lo fanno diventare Il loro figlio Ecco È uguale È uguale Ed è fatto apposta Secondo me Per suscitare Tutto questo Immaginario La differenza sta Che questo bambino Ha sì i poteri Come Clark Kent E si vestirà sì Come un supereroe Tra virgolette Nel senso che Si costruirà Lui un mantello Di stracci Cose così Ma la differenza È che c'è qualcosa Di maligno Dentro di lui Qualcosa di spaventoso Quindi lui diventerà Una specie di Villian Credo Almeno questo è quello Che si intuisce Il trailer Mi ha veramente gasato A dirigere lo troviamo David Jaroweski Che è il neopupillo Di James Gunn James Gunn È il produttore Noto produttore Regista Insomma Regista di Slitter Fin riuscitissimo Vi consiglio di vederlo E sceneggiatore E produttore Di I cult della troma Come Tromio and Juliet Di cui è in realtà Anche co-regista Ma non è mai stato citato E Terror firmer Insomma James Gunn È produttore Di L'angelo del male E David Jaroweski È Diciamo Il prescelto Per dirigere Questo film Un giovane regista Insomma Che vedremo Se riuscirà A farsi valere Ultimo film Che dovrebbe Uscire Perché se ne parla Veramente da un po' Nel 2019 Perché se ne parla Veramente da un po' È Tree From Hill Insomma La simpatica famiglia Firefly Torna sul grande schermo Voi direte Come fa a tornare Sono tutti morti Ma nel cinema La magia del cinema È questo Finché Non li vedete morti Non sono morti E comunque Anche se li vedete morti Non sono morti Perché finché c'è gente Pronta A andare al cinema A vedere I risorti I risorti William di Rob Zombie Ci saranno sempre Dei sequel Dei prequel Dei reboot Dei remake Dei quadri Su dei giugli Trichetta Ci sono viste Alcune foto Del film Forse presto Uscirà un trailer E forse Riusciremo a vederlo Entro questo 2019 Questi sono Tutti i film Micchia Sono veramente tanti Questi sono veramente Tutti i film Che usciranno Nel 2019 Forse Qualcuno di questi titoli Potrebbe non uscire Perché Per una questione di ritardi Di alcuni Non c'è ancora il trailer Di alcuni Ci sono solo poche immagini Un teaser Quindi Non è detto Che tutti questi film Escano Però Vi ho segnalato Quelli che probabilmente Usciranno Sotto al video Troverete Tutti i link A tutti I trailer Disponibili Dei film Che usciranno Nel 2019 Visto che il video È già durato una cifra Chiudiamo qua Se il video vi è piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo video Sono stanchissimo Sono proprio stanco E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video